Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele Franzoso, faccio parte delle ACLI di Bologna. Insieme all'informa giovani multitasking del Comune di Bologna abbiamo progettato il Compedenza in Rete, un progetto che coinvolgerà i ragazzi da 18 ai 35 anni, verranno accompagnati con uno sportello del Comune di Bologna per le difficoltà burocratiche da incontrare per avviare le proprie idee sull'autoimprenditorialità. Abbiamo coinvolto anche gli istituti scolastici di Bologna portando loro l'informazione e questo progetto ha proprio la particolarità che verranno fatti dei video che verranno inseriti sul sito e quindi si potranno anche incontrare persone che hanno la stessa idea e quindi più partner per lo stesso progetto.